Stiamo festeggiando i 40 anni del nostro Servizio Sanitario Nazionale, un servizio sanitario che il mondo ci invidia, un servizio sanitario che è assolutamente universalistico e che è stato ultimamente ampliato attraverso i nuovi LEA di tutta una serie di prestazioni che sono un diritto della cittadinanza italiana. Purtroppo, non in tutte le regioni e non su tutto territorio nazionale, tali prestazioni possono venire erogate allo stesso modo ai cittadini. E' quindi estremamente importante sostenere la campagna di cittadinanza attiva affinché nell'articolo 117 della Costituzione possano essere integrati il diritto alla tutela della salute e il principio della sussidiarietà.